personaggio molto importante e quindi cerchiamo di vedere un attimino quali sono i segreti, se vogliamo, salutiamo anche Betty Kotich dell'antroposofia, che è un po' la via della conoscenza superiore, no? Ovviamente la via della conoscenza superiore, secondo Steiner, passa con affrontare quelli che sono i guardiani della soglia. I guardiani della soglia chi sono? Beh, intanto esistono due guardiani della soglia, il piccolo guardiano e il grande guardiano. Il piccolo guardiano rappresenta un po', come possiamo dire, è un'entità energetica che è, diciamo, che rappresenta fondamentalmente un doppione dell'essere umano che si forma di vita in vita su un piano eterico, un piano astrale e raccoglie un po' tutte le emozioni. Quindi il guardiano della soglia, poi il piccolo guardiano lascia il corpo nel momento della morte e ritorna al corpo, al nuovo corpo, durante una nuova incarnazione. Cioè se non viene, se non si impara a far crescere questo guardiano della soglia, diventa un'egregora molto condizionante, diventa un'egregora che in qualche modo tende a controllare, che in qualche modo, diciamo, tende a governarci fondamentalmente, quindi togliendo potere all'essere umano stesso. Quindi il piccolo guardiano della soglia rappresenta un po', diciamo, come vogliamo dire, il nostro doppio, ma è un doppio, diciamo, che spesso non è quello che noi vorremmo che fosse, perché viene alimentato da tutte le nostre emozioni più negative, più nefaste e aumenta, questa egregora diventa sempre più potente di vita in vita. Il grande guardiano della soglia, invece, è un'entità simile, però su base, diciamo, universale, se vogliamo, che è alla guardia, diciamo, dei vari piani di esistenza. Cioè ogni piano di esistenza ha un guardiano della soglia, una sorta di drago magnus che in qualche modo cerca di togliere energie all'essere umano nel momento della morte. Ora, quindi, la vita della conoscenza, la via della conoscenza superiore è seguita, diciamo, nell'iniziazione fino all'incontro con questi due guardiani della soglia. Prima che l'uomo ponga piede, diciamo, sul sentiero della conoscenza superiore, egli conosce solamente una conoscenza ordinaria, cioè quella del mondo dei sensi. E noi, diciamo così, che viviamo nella conoscenza ordinaria, cioè siamo bloccati nel mondo dei sensi, che rappresentano, sì, da un lato ci permettono di sperimentare il mondo fondamentalmente, ma dall'altra parte, salutiamo anche Betty Kotick, dall'altra parte, tendono a farci sperimentare solo una piccola parte del mondo, perché i nostri sensi sono molto limitati. Anche tutta quella che viene chiamata scienza, diciamo, ha a che fare con un grado di, tra virgolette, conoscenza sensibile, perché la scienza, la fisica, ad esempio, la chimica, non fa che elaborare in modo più raffinato però il conoscere quotidiano, dà delle regole. Ma per ora la scienza non ha ancora esplorato il mondo, come possiamo dire, dell'occulto. Ovviamente la scienza utilizza degli amplificatori di sensi, perché utilizziamo il microscopio, ad esempio, per entrare nell'infinitamente piccolo, utilizziamo il telescopio per vedere, diciamo, in lontananza, quindi è come se i nostri sensi venissero ampliati. Però anche la nostra, anche la scienza, quella che definiamo scienza, fisica, chimica, è sempre collegata comunque a un mondo sensoriale, sicuramente più potenziato, ma sempre facente parte di una, se vogliamo, dimensione grossolana. Nella scienza occulta questo primo grado di conoscenza viene chiamato conoscenza materiale, o nel buddismo, anche nel buddismo tibetano, viene anche chiamata conoscenza grossolana, perché è legata a un corpo grossolano. Salutiamo anche Crezi. Invece nell'occulto, ad esempio, secondo gli studi di Steiner, ma non soltanto di Steiner, anche di altre persone, esistono altri livelli di conoscenza che trascendono la conoscenza materiale o la conoscenza grossolana. Secondo l'antroposofia, secondo Steiner, ci sono, diciamo, ci sono diversi livelli di conoscenza. Il primo, appunto, è la conoscenza, è la conoscenza, se vogliamo, materiale, la conoscenza che sia, che si può sviluppare sia attraverso i nostri sensi, ma sia anche attraverso i sensi rinforzati proprio della conoscenza scientifica. È ovvio che noi a occhio nudo non possiamo vedere un batterio, ma con microscopio potremmo vedere un batterio. Non possiamo vedere un atomo, ma ci sono degli esperimenti che ci fanno interagire con gli atomi. E, difatti, poi quando arriviamo nel campo dell'infinitamente piccolo con la fisica quantistica, ecco che anche questa scienza, se vogliamo, materiale o grossolana, inizia a perdere dei colpi. Noi non possiamo più percepire, diciamo, una particella subatomica, cioè non siamo in grado di definire una particella subatomica attraverso i metodi della scienza grossolana, perché questa particella, come potremmo dire, è, come si dica, come dicono i fisici, è non locale, cioè può sussistere in, ad esempio, in diversi luoghi contemporaneamente. Pensiamo all'equazione di Schrödinger, l'equazione di Schrödinger che, vabbè, voi siete ignoranti e non la conoscete, scherzo ovviamente, l'equazione di Schrödinger è l'equazione che definisce la probabilità di trovare un elettrone e potenzialmente questo elettrone si trova, fin tanto che non viene misurato, si trova dappertutto fondamentalmente, no? Diventa un'onda. Un'onda è un qualcosa che si trova dappertutto. Pensiamo a un campo, no? Un campo di radiazione, ad esempio anche un campo di radiazione solare, cioè il campo, diciamo, elettromagnetico del Sole non si trova localizzato in un punto dello spazio-tempo, ma se vogliamo si trova localizzato un po' dappertutto. Quindi fin tanto che non andiamo a misurare, fin tanto, certo, il fotone, quando è che verrà localizzato? Verrà localizzato, ad esempio, quando interagisce con un ricettore, ad esempio, quando interagisce con la nostra pelle, quando il fotone colpisce, interagisce con altri atomi, allora a quel punto lì è, grazie Gene, allora a quel punto lì il fotone è, diciamo, localizzato, ma fin tanto che non avviene questo, si trova essenzialmente dappertutto. Ci sono diversi esperimenti che fanno capire anche la causalità, a causalità delle particelle subatomiche, no? Un semplice esercizio con un puntatore laser e un vetrino ci fa capire come, diciamo, un fotone ogni tanto viene proiettato per riflessione da un lato, ogni tanto non viene riflesso. È come se il fotone, diciamo, decidesse dove muoversi, se a sinistra o a destra, ma senza una causa fondamentalmente, senza una causa prima. Comunque, questo è il... quindi già ci dice questo che la conoscenza grossolana, la conoscenza materiale, non è esplorabile dalla scienza, cioè fino a un certo punto sì. Il secondo livello di conoscenza per Steiner è la conoscenza immaginativa, poi c'è un terzo livello di conoscenza che lui chiama conoscenza ispirata o volitiva e un quarto livello di conoscenza che lui chiama conoscenza intuitiva. Ovviamente nella conoscenza grossolana o sensibile sono in gioco quattro elementi. L'oggetto è l'oggetto di misura, ad esempio, non so, io guardo questa matita, l'oggetto è la matita, però anche l'immagine di questo oggetto che io formo nella mia mente, perché io non posso interagire direttamente con questa matita. Io vedo questa matita, ma in realtà cosa vuol dire che la vedo? Che i fotoni colpiscono questo nucleo di atomi che compongono questa matita e questo nugolo di atomi, diciamo, che compongono questa matita vengono proiettati, diciamo, attraverso impulso elettrico del mio cervello che crea un'immagine. I colori marrone, nero, questi colori qua in realtà non esistono, cioè sono veramente delle costruzioni del mio cervello, sono semplicemente delle frequenze, quindi io non posso interagire con questa matita. Di fatto non posso interagire. Credo di tenerla, ma in realtà è soltanto una, come dire, un qualcosa di legato agli elettroni superficiali, quindi comunque deve esserci un oggetto che fa un'impressione sui sensi. Poi io mi formo un'immagine di questo oggetto e poi, diciamo, definisco questo oggetto in funzione, diciamo, del concetto che mi sono creato, dell'idea. Quindi mi formo un'idea di questo oggetto semplicemente sulla base di altre cose, di altre immagini e preconcetti, insomma. Anche una scimmia vedrà questa matita, ma si formerà un concetto di questa matita diverso dal mio fondamentalmente. Quindi la distinzione, diciamo, tra immagine e concetto è straordinariamente importante, perché, ad esempio, supponiamo, diciamo, di avere davanti a noi un oggetto di forma circolare, poi ci voltiamo, o chiudiamo gli occhi, diciamo, e conserviamo nella memoria l'immagine di questo oggetto circolare. Finora, diciamo, non abbiamo ancora, se vogliamo, il concetto di immagine circolare. Questo concetto, diciamo, risulta noto quando io faccio un'astrazione e definisco che cos'è un cerchio. Un cerchio, potrei definirlo, cioè, questo lo imparo gradualmente, è una figura nel quale tutti i punti sono equidistanti dal centro, ad esempio. E quindi è solo quando io mi sono formato un concetto del cerchio che posso definire che quello è un cerchio, e posso, è soltanto quando io mi sono, ho definito un concetto astratto, che questa è una matita, che posso dire che questo nugolo di atomi rappresenta una matita che ha certe funzioni. Una scimmia, come ripeto, probabilmente avrà un concetto diverso di questo oggetto. Non è detto che anche la scimmia non abbia un concetto. Una formica avrà sicuramente un'idea, un concetto diverso di questa matita. Eppure sia la scimmia che la formica possono interagire con la matita, cioè si crea un'interdipendenza. E quindi questa matita, come viene detto nel buddismo tibetano, alla fine è vuota di esistenza intrinseca. Salutiamo Antonio, è totalmente vuota di esistenza intrinseca. E questo è un concetto che spesso noi non riusciamo a comprendere, anzi spesso le persone non riescono a comprendere il concetto di vacuità. Quindi, e questo è soltanto la prima forma di interdipendenza, quella che abbiamo da un punto di vista grossolano. nel grado successivo della conoscenza, cioè la conoscenza immaginativa, viene a mancare l'impressione dei sensi esterni. Cioè io non ho più, come dire, non ho più un'impressione dovuta ai sensi esterni. Cioè la matita non c'è più, non c'è più, diciamo, l'oggetto. Ma dunque io creo comunque questo oggetto all'interno della mia mente. Quindi quali sono? Restano dunque soltanto tre elementi. Risulta l'immagine, il concetto e l'io. L'io sarebbe la parte di noi che percepisce, quella parte della mente che si crea l'immagine, diciamo, della matita fondamentalmente. Ma di fatto la matita non c'è più. Questo è un altro concetto molto importante. Dove non c'è alcun oggetto esterno, la conoscenza ordinaria, diciamo, viene sviluppata soltanto attraverso l'immaginazione. Ovviamente chi si forma immagini a cui dovrebbero corrispondere degli oggetti sensibili, anche quando questi oggetti non ci sono, sta esercitando un'attività di fantasia fondamentalmente. Ma l'occultista invece ha una capacità ulteriore, ha la capacità di formare delle immagini, diciamo, anche quando non ci sono oggetti sensibili. Quindi per l'occultista subentra qualcos'altro al posto dell'oggetto esteriore. L'occultista ha proprio questa capacità di formarsi delle immagini, diciamo, alle quali non corrisponde, non c'è una corrispondenza di un oggetto sensoriale. Quindi a differenza dell'immaginazione normale, l'occultista immagina delle cose che non hanno una corrispondenza, una corrispondenza materiale. Cioè non si limita a immaginare una matita che comunque egli conosce. Ma quindi da questo punto di vista l'immaginazione diventa creativa, perché non è più soltanto un ruolo, come possiamo dire, passivo di, diciamo, riprodurre nella mia mente qualcosa che in qualche modo ho sperimentato attraverso i sensi. Ma il ricercatore, l'occultista, lo spiritista, diciamo, crea ex novo, diciamo, delle immagini che non hanno un substrato, un, diciamo, una connessione sensoriale. E quindi possiamo dire che da questo punto di vista l'occultista trascende l'immagine, trascende i sensi. L'uomo, che è limitato dai cinque sensi, dai sensi, vive soltanto in un mondo di immagini che entreranno in lui attraverso i sensi, oppure, diciamo, si creerà comunque delle immagini collegate ai sensi. Mentre l'occultista ha questa capacità di creare delle immagini ex novo. Quindi, da questo punto di vista, la sua è un qualcosa, è un'arte creativa, fondamentalmente. Ad esempio, ma anche rimanendo in situazioni, ma anche tutte le persone che creano delle cose, ad esempio, potrei creare un nuovo tipo di matita, o un nuovo tipo, cioè, potrei creare qualunque cosa che è dentro la mia mente, ma alla quale non corrisponde un'immagine. Quindi, noi, normalmente, crediamo che sia reale soltanto qualcosa che, in qualche modo, possiamo percepire attraverso i cinque sensi, o che comunque possiamo immaginare, ma questa immaginazione è comunque strettamente collegata a qualcosa di percepibile attraverso i cinque sensi. Spero che il concetto sia chiaro, no? Quindi, in quel caso lì, non sto creando niente. Sto semplicemente riportando delle cose che, in qualche modo, magari non sono presenti, ma potrebbero esserlo, e quindi potrei anche sperimentarlo attraverso i cinque sensi. Invece, l'occultista, il mago, diciamo così, il creatore, riesce a immaginare, ricordiamo che immagine significa in me, mago agere, dentro di me agisce la magia, e agisce veramente la forza creativa. E questo è un punto spirituale. Ovviamente, come dire, questo collega anche un po' il pazzo, no? A questa cosa qua. Dobbiamo essere preparati, diciamo, a che queste cose che creiamo ci possono anche giocare dei brutti scherzi, fondamentalmente. Poi abbiamo il terzo grado di conoscenza. Il terzo grado di conoscenza è quello che non utilizza neanche più le immagini. È la conoscenza ispirata, detta anche conoscenza volitiva. Non ha neanche più bisogno di immagini. Questo è un punto fondamentale. L'uomo non ha più a che fare col concetto e con l'io. Cioè, se al secondo grado di conoscenza ha bisogno comunque di crearsi delle immagini, al terzo grado di conoscenza non si hanno neanche più le immagini. E quindi è come se si entrasse direttamente in contatto con un mondo puramente spirituale. Quindi questo è ovviamente anche difficile da descrivere perché ovviamente, come dire, ciò che per il primo grado è la sensazione, per il secondo grado è l'immaginazione, per il terzo grado di conoscenza è l'ispirazione. L'ispirazione che cos'è? È un qualcosa che appunto non possiamo descrivere per immagini, non possiamo ovviamente descrivere a parole e possiamo dire che è un qualcosa di ispirato. Si tratta, diciamo, di un qualcosa che risulta puramente spirituale. è un po' come entrare in contatto con l'anima dell'universo. Questo è ovviamente... L'ispirato, diciamo, può percepire l'anima delle cose. È un po' come dire... È un po' come il veggente, no? Può percepire quello che in realtà i nostri sensi non possono percepire e che la nostra immaginazione non riesce neanche talvolta a immaginare oppure può immaginare, ma comunque è, come dire, è come se si entrasse in contatto direttamente con un mondo spirituale, con un tipo di sensazione diversa, che può essere, si manifestano ad esempio comunicazioni telepatiche. L'ispirato può conoscere l'essenza intima di tutte le cose. Diciamo che la persona che ha questo grado di conoscenza parla un linguaggio diverso, parla un linguaggio che proviene da un altro mondo e quindi non è in grado poi di comunicare questa conoscenza alle persone che invece non hanno questa capacità, appartengono a questo mondo. E questo è il terzo grado, è il terzo grado di conoscenza. C'è ancora un grado, se vogliamo, di conoscenza superiore che trascende anche l'ispirazione e che Steiner ha chiamato intuito, cioè quindi una conoscenza che supera, diciamo, la conoscenza ispirata, ma diventa una conoscenza intuitiva. Che cos'è la conoscenza intuitiva? Allora, partiamo dall'inizio, siamo partiti da un oggetto, poi abbiamo creato delle immagini che non sono l'oggetto, esprimono un oggetto, anche creano un oggetto. E poi avviene l'altra conoscenza, che è la terza conoscenza o l'ispirazione, che ci fa entrare in contatto con l'anima dell'oggetto, con la vera essenza dell'oggetto. E il quarto grado di conoscenza e l'intuito è la capacità non soltanto di conoscere l'oggetto, ma di vivere l'anima, tra virgolette, dell'oggetto. E quindi, come dire, non mi limito più a comprendere l'anima della matita, ma riesco, tra virgolette, a penetrare l'anima della matita. Cioè io divento la matita, fondamentalmente, se parlando di oggetti. Io, nel quarto grado di conoscenza, perdo quella che è la mia individualità e divento consapevole del fatto che sono parte dell'universo stesso. È come, per meglio dire, la goccia del mare che trascende, diciamo, il fatto di essere goccia e riesce a penetrare dentro il mare, a comprendere, ma non soltanto a comprendere che sarebbe il terzo livello di conoscenza di essere parte del mare, ma a sperimentare il fatto di essere parte del mare. Quindi la goccia stessa che diventa il mare. Quindi nel quarto grado di conoscenza possiamo dire che l'occultista si spoglia, tra virgolette, del proprio sé e si fonde, diciamo, con il sé di un altro essere. E potrebbe anche fondersi con il sé, diciamo, dell'universo. Ma quando parlo di universo non parlo soltanto di universo, come possiamo dire, materiale, ma parlo proprio delle parti più energetiche, se vogliamo, dell'universo. Quindi lo sperimentatore, l'occultista, sale, diciamo, diventa parte dei mondi superiori, dei mondi energetici. Quando parliamo di energia, ovviamente non parliamo di energia studiata dalla fisica, ma, come viene definita, energia sottile, quella energia che gli strumenti della fisica non riescono a misurare, non riescono a percepire. Ovviamente il fare questo diciamo, come si fa a fare questo? Beh, per Steiner, come anche per altre filosofie orientali, sono necessarie. Noi abbiamo questa capacità, ma, diciamo, dobbiamo lavorare. Le forze con le quali l'anima lavora sono, diciamo, le stesse forze che vengono adoperate poi a livello sensoriale, però vengono usate in modo più sottile. Ma sono spesso le stesse forze che si manifestano durante il sonno, che devono essere, come dire, riprodotte anche durante la veglia. Ad esempio, quando una persona produce la capacità di immaginare, una delle capacità di immaginare non proviene dalla veglia. Noi possiamo usarla nella veglia. Io posso chiudere gli occhi e immaginare questa penna, ma questa capacità di immaginare non è una qualcosa che proviene dalla veglia, ma in questo caso, ad esempio, è una caratteristica che proviene dal sonno, proviene dal mondo onirico. Mediante, diciamo, queste forme noi possiamo andare avanti e acquisire altri sensi, sensi che potremmo definire spirituali, i quali fanno sì che la nostra anima, diciamo, non viva soltanto in un mondo spirituale. Perché la cosa interessante è che noi, di fatto, chi crede appunto nell'esistenza dell'anima, abbiamo un'anima che vive in un mondo spirituale, ma vive in modo inconsapevole, cioè noi non siamo consapevoli, no? Infatti, non siamo consapevoli del sonno, non siamo consapevoli della dimensione della morte, non siamo consapevoli di nulla, cioè viviamo in queste dimensioni perché se abbiamo un'anima o una parte sottile, una parte energetica, questa parte vive in queste dimensioni, ma non ne ha la minima consapevolezza. Invece, nel quarto livello di conoscenza, nel terzo e nel quarto livello di conoscenza, noi, diciamo, l'iniziato diventa in grado di utilizzare queste forze e vivere e quindi e di percepire attraverso altri sensi la realtà. Questo lavoro, come viene fatto? Questi esercizi, quali sono? Beh, Steiner, diciamo, propone degli esercizi, dei lavori che sono comunque tipici anche di tutte le filosofie orientali e sono la meditazione, fondamentalmente la meditazione e la concentrazione, cioè meditazione, concentrazione e anche altri esercizi fanno sì che l'anima si ritire, diciamo, dal suo collegamento con gli organi di senso, quindi l'anima non è più collegata agli organi di senso, di senso tradizionale, quindi classici vista, udito, tat, olfat e gusto, ma si collega con questi sensi, potremmo definirli spirituali e quindi fondamentalmente l'anima anche in vita, perché poi durante la morte questo processo avviene naturalmente anche se avviene in maniera consapevole e quindi anche in vita l'anima diventa libera dal corpo, diventa libera dal corpo fisico e entra, diciamo, in contatto con altre dimensioni. Quindi la nostra coscienza, potremmo dire, la coscienza cos'è? È la consapevolezza del sé. Oggi la nostra coscienza, cioè la consapevolezza del sé, è radicata, è radicata esclusivamente, diciamo, è radicata esclusivamente in dimensioni grossolane. Noi siamo consapevoli, che ne so, ho mal di pancia, ho mal di testa, sono consapevoli del fatto che ho mal di pancia, che ho mal di testa, ma non sono consapevoli di altre situazioni, no? Quindi noi siamo collegati al mondo esterno attraverso, visto, dito, tratto, olfat e gusto, ma anche attraverso il mondo interno, ma sempre alla parte grossolana, no? Quindi che può essere anche la parte emotiva, uno soffre per un'emozione piuttosto che un altro. tutto questo dipende dal fatto che dobbiamo imparare a distinguere tra una cosa e l'altra fondamentalmente, no? Per quanto precede, diciamo, dobbiamo tenere presente che l'anima in questo caso deve essere in grado di abbandonare il corpo e di entrare dentro altri regni, puoi così dire, altri regni di esistenza che non sono il regno fisico, ma oltre il regno fisico, diciamo, secondo le tradizioni spirituali, esistono altri altri regni che sfuggono, diciamo, ai nostri sensi e quindi noi non ne siamo consapevoli. e quindi questi altri regni sono, secondo diverse tradizioni, un mondo eterico, un mondo astrale, un mondo mentale, un mondo mentale inferiore, un mondo mentale superiore o mondo causale che è proprio l'origine del tutto fondamentalmente, come se il nostro corpo, come se dal corpo causale che è la causa, abbiamo poi a cascata tutta una serie di effetti fino ad arrivare al nostro corpo fisico fondamentalmente. Quindi se vogliamo salire diciamo al mondo superiore dobbiamo imparare a esplorare la capacità attraverso degli esercizi appunto che propone Steiner ma che propongono anche altre fondamentalmente filosofie di entrare in una dimensione più sottile, altrimenti noi siamo sballottati diciamo da un piano all'altro del mondo grossolano un piacere ci rende felici un come possiamo dire un piacere ci rende felici un dolore ci rende tristi ma noi dobbiamo avere dovremmo avere una conoscenza superiore che può trascendere anche tra virgolette le sensazioni fisiche pensate ad esempio a Giordano Bruno Giordano Bruno non ha avuto timore diciamo di morire di andare al rogo e di essere e di essere torturato prima per non abbiurare quindi vuol dire che lui riusciva a trascendere anche il dolore fisico altrimenti nessuna persona avrebbe accettato diciamo un dolore fisico di quel genere se non fosse stato in grado di trascenderlo piuttosto che abbiurare quindi aveva sicuramente io credo Giordano Bruno ad esempio per fare un esempio sviluppato una grande capacità di trascendere anche l'aspetto l'aspetto fisico fondamentalmente ma questo vale anche per gli iniziati e i santi di tutte le tradizioni anche nel cristianesimo molti santi andavano al martirio diciamo col sorriso sulle labbra perché avevano sicuramente avuto la consapevolezza dell'esistenza di un piano superiore di esistenza e quindi avevano avuto proprio questa capacità di astrazione di astrarsi dalla parte fisica persone che avevano trovato in vita diciamo un centro di gravità non fisico ma potremmo definirlo come diceva Battiato cerco un centro di gravità permanente questa canzone di Battiato cerco un centro di gravità permanente può essere interpretata anche da questo punto di vista cioè l'uomo deve trovare in sé un centro di gravità che non sia legato al proprio fisico alla propria mente ma che sia un centro di gravità che possa essere spirituale fondamentalmente ma molte persone la maggior parte delle persone lo fa in modo fittizio no? perché come dire da un punto di vista intellettuale dicono di essere persone spirituali poi in realtà sono estremamente collegate al diciamo alla materialità e quando qualcosa non funziona ne restano collegati non sono per niente distaccati pensate ad esempio alla malattia persone che nel momento in cui viene magari dicono di essere spirituali poi nel momento in cui viene diagnosticata una malattia per dire una malattia che non gli dà scampo e allora entrano in stati depressivi entrano il che significa che la loro spiritualità era una spiritualità fasulla fondamentalmente no? perché come dire se quando ti viene fatta una diagnosi nefasta cioè che il tuo corpo sta per finire sta per esaurirsi perché magari hai che ne so un cancro incurabile se tu entri in stati depressivi entri ti attacchi a questo corpo e vuol dire che la spiritualità che credevi di avere era soltanto come dire una spiritualità di facciata io credo che la maggior parte di noi mi ci metto pure dentro io abbiamo una spiritualità di facciata cioè una spiritualità intellettuale ma poi il centro di gravità è sempre è sempre legato al corpo no? perché altrimenti diciamo se non fosse legato al corpo nessuno temerebbe la diagnosi in fausta di una malattia terminale nessuno temerebbe diciamo la diagnosi di qualcosa oppure insomma ma trascenderemmo tranquillamente queste cose chi ha un suo chi ha veramente non soltanto di facciata perché poi in realtà la maggior parte di persone ha un qualcosa di facciata e mi ci metto dentro anch'io perché nel momento in cui hai mal di pancia per dire anche soltanto un mal di pancia beh tutta la tua spiritualità che avevi se ne va sparisce praticamente ma il tuo attaccamento il tuo attaccamento al corpo fisico diventa diciamo preponderante quindi non hai non hai più quella spiritualità che dicevi di avere era soltanto una spiritualità intellettuale non una spiritualità reale cioè il tuo centro di gravità è comunque sempre legato alla materialità il tuo o il mio non è che io mi tolgo invece una vera spiritualità deve trascendere per cui il mal di pancia dal mal di pancia diciamo alla diagnosi nefasta di un tumore incurabile non ti deve assolutamente toccare fondamentalmente se tu hai un centro di gravità sulla parte spirituale invece noi spesso come dire ma anche per cose meno banali anche per cose più banali è come ci sono persone che diciamo dicono di avere la spiritualità poi li lascia al fidanzato li lascia al marito e soltanto perché li lascia al fidanzato li lascia al marito si deprimono allora vuol dire che la tua spiritualità non era una spiritualità non era niente diciamo perché non dico neanche l'attaccamento al corpo ma l'attaccamento al marito al fidanzato all'amante a chi cazzo sia quindi se il fatto che perdi quello ti manda in depressione per dire vuol dire che diciamo il tuo centro di gravità era decisamente ancorato alla parte materiale mi viene sempre in mente Giordano Bruno Giordano Bruno ha affrontato la tortura ha affrontato il rogo ma non ha abbiurato alle sue idee quindi vuol dire che lui era fortemente radicato in un centro spirituale perché se fosse stato radicato diciamo in un centro come possiamo dire se fosse stato radicato in un centro possiamo definirlo materiale e beh al primo al primo segno di tortura io abbiuro abbiuro tranquillamente bastava che lui dicesse abbiuro quello che dicevo ho sbagliato e nessuno gli avrebbe più fatto nulla a lui avevano dato la possibilità di salvarsi no? bastava che abbiurasse cosa che invece ha fatto Galileo ad esempio Galileo quando l'hanno messo di fronte al fatto abbiuri o vai a rogo lui ha abbiurato tranquillamente cioè per dire no? che significa che ad un certo punto di vista Galileo era ancorato ad un centro materiale mentre Giordano Bruno no altrimenti non avrebbe fatto questo ma come molti santi molti personaggi di questo genere quindi questa è un po' la vera consapevolezza spirituale spesso noi oggi facciamo una spiritualità di tendenza no? una spiritualità di moda no? ma poi appena che ne so ti si buca una ruota della gomma e torni subito al materiale magari si buca la ruota della gomma non hai i soldi per cambiare la ruota della gomma e allora resti lì vincolato in stati di sofferenza purtroppo questo è la prova del nove la vita ci dovrebbe mettere alla prova una persona che ha una spiritualità deve poter affrontare diciamo queste cose se non le sa affrontare perché era solo una spiritualità di facciata diciamo che è praticamente una presa per il culo la spiritualità di facciata è prendersi per il culo da soli fondamentalmente bene mettete un like iscrivetevi al canale attivate la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video